Buongiorno amici! Siete pronti per una nuova puntata di teatro da casa? Il teatro fatto da casa mia e in casa vostra. Allora cominciamo! Siamo pronti! Anche oggi avrete la vostra lezione di teatro da casa. Ve la ricordate la promessa? Per il nostro tempo che regaliamo a voi con questi video, voi ci dovrete un cambio, dare almeno un'ora della vostra giornata, dove sarete lontani da tablet, televisioni, computer e accessori strani per dedicarvi al gioco. Sì, ma gioco insieme a noi e insieme ai vostri genitori. Ecco, oggi noi diventeremo colore. Siete pronti? Io sì, ma prima ci dobbiamo riscaldare. Innanzitutto il nostro corpo va svegliato. Che siano le 9 di mattina, le 3 del pomeriggio o le 8 di sera, il nostro corpo ha bisogno di essere avvisato quando lo si mette a dura prova o semplicemente gli si chiede di fare qualcosa di diverso dal solito. Quindi, insieme adesso, insieme ai vostri genitori, ai vostri nonni, ai vostri fratelli, alle vostre sorelle, ai vostri zii, eccetera, 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 Mettetevi comodi, indossate degli indumenti comodi e muoviamoci un po'. Andiamo. Prima di tutto cominciamo dal nostro involucro esterno e quindi le articolazioni e i nostri muscoli. partendo da quelle più lontane, in questo caso, le mani. Cominciamo a muovere le nostre mani dalla parte e dall'altra, così. E poi aggiungiamo gli avambracci, così, così. E possiamo anche cambiare l'alto. e poi tutto il braccio, le spalle, eccetera, eccetera. E diventiamo un po' sciocchi. E poi aggiungiamo anche il bacino. Braccia, bacino, braccia, bacino, braccia, bacino. Deve sembrare una danza ridicola. Tutte c'è, tutte c'è, tutte c'è, più alloggi e più alloggi. In questo modo, riusciremo ad avvisare il nostro corpo che gli stiamo facendo fare qualcosa di inusuale. E dopo aver mosso bene tutto il nostro corpo esterno, passiamo a quello interno. Scaldiamoci dentro. In che modo? Immaginate di essere dei grattacieli. E questo lungo, o meno lungo, grattacielo, dentro è fatto di tanti piccoli mattoncini che adesso noi proveremo a rompere e a ricostruire. Fatelo insieme a me. Una volta diventati grattacielo, immaginiamo quindi che dentro di noi, un pezzettino alla volta, il nostro grattacielo si rompa. E quindi, ad ogni piccola esplosione del nostro grattacielo, il nostro corpo andrà giù, verso il basso. Però non possiamo lasciare un grattacielo crollato a terra, quindi la stessa cosa la faremo al contrario, cioè ricostruiremo un pezzettino alla volta il nostro corpo interno, il nostro grattacielo, ok? Quindi armatevi di calcestruzzo e fantasia e rendete il vostro corpo il più bello che ci sia. Adesso che avete scoperto come costruire e smontare il vostro corpo, lo faremo in maniera diversa. Vi potete far aiutare dai vostri genitori o potete addirittura sfidarli. Ma questo lo vediamo dopo. Cosa faremo? Ora decideremo in quante piccole esplosioni il nostro corpo deve prima smontarsi e poi rimontarsi. Siete pronti? in dieci piccole esplosioni andremo giù e poi ritorneremo su. Uno, due, tre, quattro, cinque, sette, sette, otto, nove, dieci. E ora saliamo in nove. Pronti? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Uno, due, tre, quattro, cinque, sette, otto, nove, sette, otto. Uno, pie. Uno, zuh, sette, oi. Uno, die, oi. O! 1 1 1 1 Basta! E adesso che abbiamo scaldato la parte esterna e la parte interna del nostro corpo, siamo pronti alla prima spida. I vostri genitori o i vostri fratelli più grandi spesso non hanno tanta voglia di fare questi giochi perché dicono che siano da bambini. Però questa è una bella sfida per metterli alla prova. Immaginatevi di essere grattacieli e sfidatevi l'un l'altro in una sfida di lentezza. Si parte da su e si arriva giù senza mai fermarsi. Questo gioco lo vince chi arriva ultimo. Via! Fateci sapere chi ha vinto, eh? Ma adesso passiamo a quello per cui oggi abbiamo scaldato il nostro corpo. E cioè diventare colore. In che modo? Lo scopriamo subito. Quello che dobbiamo fare è molto semplice. Cioè, niente è semplice. Ma noi con la nostra fantasia lo renderemo tale. Ora, immaginate un colore. O meglio, ve lo dico io, il primo. E immaginiamo il colore bianco. Ora, con questo colore, provate ad immaginare tutte le cose che nella vostra testa vi vengono in mente. Situazioni, oggetti, persone, cose, animali. E tenetevi lì. Pensate, pensate, pensate. Scegliete una di quelle immagini che vi sono venute in mente e descrivetela col vostro corpo, modellandovi da soli in quello in cui vi volete trasformare. Cioè, nella parola che avete pensato. Non avete capito? Vi faccio un esempio. Mi trasformerò nella mia parola bianco. Pronti? State un po' a vedere e cercate di indovinare in che cosa mi sono trasformato. Questo è il mio bianco. A cosa ho pensato, secondo voi? Com'è? Bravo! Nel latte. Il latte è bianco e io mi sono trasformato in un uomo che beve un bicchiere di latte. Un altro esempio? Ce l'ho. Questa volta mi sono trasformato in una pallina. Una pallina da baseball. E io sono un lanciatore di baseball che prova a fare strike. Oppure questo. Il bianco per me è diventato il freddo. Il bianco è paura. E allora mi trasformo o nella paura o in un fantasma, quelli bianchi, con il lenzuolo, con le buche. Il bianco è la nebbia. Il bianco è una nuvola. Il bianco è pace. Pace. Il bianco è un bianco, che è il bianco. E quindi la prima cosa che ho immaginato pensando al colore e alla parola bianco? i bicchieri di latte ora se la mia immagine bianco è Mario che beve un bicchiero di latte proviamo a dare vita a questa parola a questo bianco a questo Mario che beve un bicchiero di latte quindi cosa succedeva prima della parola bianco e cosa succede dopo la parola bianco questo è dare vita ad una parola bianco ma prima a questo a questo è un po' divertente no? bene e adesso che avete capito come diventare parola e trasformarvi in parola che vive provate a cambiare parola potete cambiare colore usare che ne so il rosso il blu il nero oppure usare parole comuni come mamma come un muro e tante altre parole che vi vengono in mente e potete sfidare i vostri genitori i vostri fratelli a capire in che parola vi siete trasformati ci state e allora partite dalla parola rosso pensate giocate e mi raccomando resistete insieme a noi tutti i giorni con tanti nuovi video ma ricordatevi la promessa è un po del nostro tempo in cambio del vostro gioco almeno un'ora al giorno lontane da televisioni videogiochi tablet e soprattutto i telefonini di mamma e papà alla prossima